La loro protesta non si ferma dopo Frosinone. La marcia pacifica dei trattori arriva anche nel sud della Ciociaria. Il malcontento per le politiche agricole e ambientali dell'Unione Europea è tanto dagli accordi a ribasso fino alle norme sull'abbandono dei terreni, passando per il no alle farine di insetti e alla carne sintetica. Partenza, martedì mattina da Villa Santa Lucia, arrivo a Cassino e ritorno a Villa Santa Lucia. Oltre 100 i trattori in marcia per dire no alle speculazioni, alle imposte europee e c'è voglia di far sentire le proprie ragioni. Il corteo si è snodato lungo la casilina, imponente anche la presenza delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza e per far sì che sotto il profilo della viabilità i disagi fossero tutto sommato contenuti. I manifestanti sono giunti da diverse zone della provincia di Frosinone. Siamo qui per protestare e dire no a tutte le imposte europee, alle politiche green, a tutti i ringari che ogni giorno aumentano tutti i giorni le materie prime, i nostri prodotti sono sempre più sottopagati e siamo anche qui per dire no a queste carni sintetiche e oggi vogliamo l'occasione per farci sentire e manifestare su tutti questi problemi. I prodotti che vengono dall'estero i nostri sono sempre più sottopagati. Non ci fermeremo finché non arriveremo a Roma, iniziamo oggi con questo corteo e credo che poi continueremo anche con altri cortei, cominceremo anche a fare dei presidi e finché non otterremo di arrivare sempre tutti uniti a Roma.